Io sono Peter e lei è mia sorella Anne. Dopo aver cambiato casa, le nostre vite non sono state più le stesse. Ciao, signor insetto. Dobbiamo andare sulla luna. Anne, aspetta. Dov'è mia sorella? Ehm, temo che sia stata rabbita. All'alba il mio cannone lunare sarà pronto e poi governerò l'intero universo. Noi governerò. Come? Non lascerò mia sorella qui da sola. A cosa serve tutta questa roba? Per il viaggio. Sulla luna. No, ai Caraibi. Ma certo che andiamo sulla luna. Sulla luna! Un viaggio come questo è per veri eroi. Grandi, coraggiosi e forti. Eccoli qui arrivano. Il vecchio, il brutto e l'insettino. Il mio fratellone verrà presto a liberarmi. Davvero vedrà salvarti. Sacco, è il mio fratellone. Un piccolo passo per un coleottero, un grande balzo per tutti gli insetti.